oh ma che gioia voglio questa che fa occhialini la sicurezza e sexy se sei pronta certo a tempo sei pronta come sex pistol bello signora mi concede un brindisi la lotta la lotta la lotta ho esorcizzato il demonio certo quando è stata l'ultima volta che ti sei rivertita così ma del 70 bravo è più forte di me questo mi fa girare i coglioni non ordinare la torta cazzo ah già la torta aspetta 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 mettiamo in sicurezza la torta ah bravo mettila in sicurezza la mettiamo nel giubbotto non la portiamo io cosa rimane? niente ahahahah ahhh Dove l'hai buttato? Guarda. Non ho più... 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 Ragazzi, grazie mille a Mara Maiocchi per questa sera abbiamo finito. Torniamo. Giovedì prossimo con una nuova puntata. Infoceccatela, da giovedì. Che fatica! Grazie a tutti.